Ciao, allora dunque dopo una settimana di pioggia oggi siamo a matrimonio e qual è la grande idea? Mangiare dentro? Io sto pensando che se mi danno una seggiolina qui fuori e adesso vi mostro anche il posto io sto per i fatti miei fuori, è a sociale, sondaggio su Instagram, è sociale? No, guardate il posto, ok? si sta da dio, 24 gradi, io oggi sto qui, cioè non mi ci si muove, outfit? Outfit, allora ho questa maglietta di Dezenis carina, di qualche anno fa, sotto ho un top di Juju, ok? Carino, non so quanto si vede e immancabili jeans ma ho messo gli stivaletti. Gli occhiali sono di Benetton e mi piacciono un sacco il trucco si vedrà poco ma l'ho fatto con la Naked Basic, ok? il rossetto è di Kiko e ho trovato che questi rossetti double di Kiko intanto non seccano le labbra, durano un sacco non resistono quando comunque si mangiano cose oleose ma per mangiare gli stuzzichini o qualcos'altro durano tranquillamente e comunque lo imborsa per ritoccarlo quindi non è un problema facciamo un giro facciamo un giro facciamo un giro facciamo un giro allora, aggiornamento sono fuori perché non se ne può più bello il posto ma dentro tanto tanto rumore troppo troppo rimbombo comunque si, i primi erano buoni il secondo adesso dovrà arrivare credo e sono già piena infatti sono in capottamento quasi quasi io ho la vaga idea di prendere la sedia mettermi al sole e mi chiamano poi per il taglio della torta potrebbe essere un'idea questo è il primo vlog che provo a fare quindi fatemi sapere anche se vi piace o no questo tipo di idee ma comunque non faccio vlog giornalieri perché le giornate sono classiche quindi non ha senso farli solamente nel caso che ci sia qualcosa di particolare questo caso c'era una cosa particolare quindi va anche bene così vedete da fare da provare pausa nel mentre continua a sentirsi una confusione tremenda sotto va bene ah guardate il rossetto che ho mangiato comunque ho bevuto poi ho mangiato due primi ed è ancora intatto proprio non ha fatto niente sicuramente forse con il secondo sia un po' più unto ma comunque vi tengo aggiornati anche su questo il rossetto è questo qui della Kiko e niente io mi trovo da dio uso solamente la parte colorata non quella gloss ma nel caso posso applicare anche il gloss senza problemi ed è direi che altro dettaglio di stile che vi voglio far vedere adesso questa è una genialata che cos'è alla fine è un appoggio borsa perché lo mettiamo così attaccato al tavolo e il gancio alla borsa quindi la borsa non va appoggiata per terra che è una cosa che io odio ed effettivamente questa è la genialata preso dai cinesi a cavolata e che altro aggiornarvi magari tra poco faccio un giretto per smaltire anche per fare qualcosa aggiornamenti in più avevano messo temporali per oggi e invece sembra che la giornata sia bella quindi va anche bene così ed è direi che ci aggiorniamo dopo su altre cose ho messaggiato apposta tutto c'è un po' un po' di arietta e ho recuperato una stalla dietro direi che siamo un attimino a passeggio per smaltire anche tutto quanto facciamoci salutare anche dalle mucche passeggiatina è anche bello il posto aspettate che vi faccio vedere e quindi direi che anche se ho i tacchi comunque sia sono bassi quindi ci facciamo una passeggiatina che ci sta bene se non ci asfaltano per strada ma non credo allora visto che non è l'attrezzata direi che comunque la giornata è abbastanza andata io quasi quasi metto una sedia al sole e mi addormento qui ho mangiato anche il secondo ora c'è il taglio della torta ma non lo riprendo tanto è una cosa classica il rossetto ha durato tranquillamente anche al secondo che è la carne quindi direi che è promosso a un prezzo basso spero che vi sia piaciuto questo piccolo vlog per una giornata diversa lo chiudo qui e ci vediamo alla prossima per la prossima